Si terrà a Napoli il 25 e il 26 ottobre la seconda edizione di HSS Symposium Incontro su salute, sicurezza sul lavoro e ambiente organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Napoli Federico II, dall'Associazione Europea per la Prevenzione insieme a Ebilav, Fondo Lavoro e agli Ordini Professionali. L'evento è stato presentato presso la sede Agis del Capoluogo Campano. Una occasione di confronto e sviluppo in un contesto che vede purtroppo dati piuttosto allarmanti circa la sicurezza, come ha sottolineato Vincenzo Fuccillo, presidente di Asso Prevenzione. Guardiamo le statistiche dell'Inail e piangiamo. Abbiamo pianto un 2018 che è stato definito annusorribilis della sicurezza lavoro, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente del numero di morti nell'arco di un anno e con 640.000 infortuni in un anno. Ci siamo detti è stato un caso? Assolutamente no. Stiamo guardando il primo trimestre 2019, abbiamo già superato del 5% le statistiche dell'anno precedente. Intervenuto Carlo Parrinello, presidente di Fondo Lavoro. Ascoltiamolo. La formazione è spesso vista come un obbligo, un vincolo senza nessun valore, in realtà è quello che consente poi all'azienda, al lavoratore di attuare correttamente tutti gli adempimenti in materia di sicurezza nei nuovi lavori e di gestire correttamente e in maniera efficace quelli che sono gli obbligi e i vincoli che poi consentono di arrivare e perseguire l'obiettivo sicurezza. La necessità di esperienze come il simposio, spiegata da Luigi Doriano, presidente di Ebilav. Si necessita di venire ad una soluzione culturale del problema. Bisogna diffondere alla base le nozioni di sicurezza sul lavoro. Quindi all'evento noi abbiamo invitato le maggiori istituzioni, i ministeri del lavoro, il ministero della pubblica istruzione, il presidente del consiglio, proprio perché alla fine del lavoro sarà presentata una relazione. Non abbiamo la presunzione di voler modificare le norme, però ce ne sono tantissime, ma di dare delle soluzioni alternative alla base dell'istituzione. Ai nostri microfoni Umberto Cardone, professore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II. Quotidianamente assistiamo alla modifica del mondo del lavoro, cambia dal punto di vista tecnologico, cambiano le esigenze di tutela perché la popolazione lavorativa ha altre caratteristiche, però assistiamo al fatto che ci muoviamo entro schemi spesso normativamente non consoni e non in grado di seguire in maniera corretta questa evoluzione.